Chiara, il diario segreto di Chiara? Venite con me e cercheremo di scoprire che cosa contiene questo benedetto diario segreto Io non l'avevo messo in questo modo, io l'avevo messo qua sotto Chi l'avrà toccato? Mi amano sicuramente Amore? Cosa fai? E niente, come puoi notare, devo cominciare a svuotare gli ultimi scatoloni Perché da quando siamo arrivati in casa siamo un po' pigri No, aspetta un attimo Ragazzi, io ho trovato una cosa sconvolgente negli scatoloni Diario segreto con un lucchetto No, allora, aspettate un attimo Andiamo subito a vedere che cosa contiene questo diario Tanto con un lucchetto di numeri banale E soprattutto devo capire di chi è Non ci posso credere Un diario segreto in casa mia che io non sapevo Devo cercare un modo di aprire E soprattutto di capire, anzi di scoprire chi è Anche se effettivamente due domande me le sono già fatte Forse è per il colore E soprattutto per la calligrafia Perché Diego è piccolino, ha cinque anni e non scrive Poi lui non ama il rosa ma ama il blu E Chiara Il diario segreto di Chiara Venite con me e cercheremo di scoprire che cosa contiene questo benedetto diario segreto Come prima cosa abbiamo scoperto A chi appartiene questo diario misterioso e profumo Chiara, 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 Chiara Però aspetta un attimo Chiara amore E' pronto da mangiare? Vieni Arrivo subito Ma cosa stai nascondendo? No, niente Vabbè, vieni a mangiare che è pronto Sì, va bene Anche tu Diego, andiamo a mangiare Andiamo E poi In bagno Chiara Che stai facendo? Sì, vi dovete lavare i denti Chiara, dai Sì Eh, cosa stai facendo? Niente, guarda Vabbè Chiara, in questi giorni sei molto molto strana Vabbè, lasciamo stare E Vabbè, ora devo trovare Ecco Perché l'altra sera lei è andata in garage di nascosto Cosa è? Cosa? Dove stanno andando Chiara? Mamma, hai riuscito? Sì Chiara, dai che è pronto Proviamo con la sua data di nascita 28 2 8 Lei è nata il 28 maggio Quindi Scontato Chiara non metterà mai 28 maggio Vabbè Il compleanno di suo fratello 17 luglio 17 7 Allora 1 Pallino Pallino Che cosa stai combinando? Invece di stare lì e fare nulla Aiutami E 17 E 17 7 Ok Chiuso Vabbè, ho capito che è un'impresa molto difficile Quindi mi serve Cacciavite E Cacciavite col cacciavite Come lo posso aprire? Come lo posso aprire? E vabbè Vedo nella cassetta degli attrezzi che cosa trovo Sicuramente nella cassetta degli attrezzi troverò tutto l'occorrente Allora E Ovviamente il metro Cosa mi può servire un metro? A nulla Poi Un martello Sì, forse se faccio Sì Martello Poi E Un cacciavite Sì, un cacciavite E poi Le pinze Le pinze Sì, le pinze E poi, 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 poi No, forse direi che può bastare Pinze per tagliare il lucchetto E martello per scassinare il lucchetto E Cacciavite Per aprire il lucchetto Andiamo Ecco il nostro libro Amici Lo sapete Che è disponibile in tutte le librerie d'Italia In più Avete anche l'occasione Di prenderlo su Amazon E riceverlo comodamente a casa vostra Cosa aspettate? Correte ad acquistarlo E fateci sapere Qual è la vostra storia preferita E Volete sapere la mia? Eccola qua Lo stregone Willo Ma Non vi anticipo ancora nulla La notte dei sogni In tutte le librerie d'Italia Di Mamma Giulia E figlia Chiara Allora Mi devo muovere Mi devo muovere Perché Chiara Esattamente Tra dieci minuti Sta arrivando da scuola E mica mi può beccare Che li sto guardando nel diario Quindi Allora Proviamo Mi dispiace Mi toccherà Però se poi lei quando arriva a casa Se ne accorce No vabbè Io ci provo 3 2 1 No Non ci Riesco Oh oh Ragazzi È arrivata Chiara Viviamo subito Allora Il diario Deve essere messo Così Sta arrivando Mamma mia Sta arrivando Mamma mia Se mi picca Sono guai Chiara Ciao amore Allora Com'è andata la giornata Sì mamma Tutto bene Ma Perché sei così agitato Hai il piattone Io Il piattone Ma quanto mai Come andata a scuola Bene mamma Ma Dove andare un giusto Più di sotto Ok Va bene Io intanto Preparo Ragazzi Forse Non mi ha Beccata Cioè Perlomeno Spero Ah Qualcosa Sono arrivata Alla scuola Potrei Scoprire Qualcosa Di romantica Nel mio Caro Aglio Ma io Non l'avevo messo Allora Io Non l'avevo messo In questo modo Io l'avevo messo Qua sotto Chi l'avrà toccato Mia mamma Sicuramente Mamma Ah Ma non è aperto Vabbè Ora lo aprirò Mamma Il mio diario Perché me l'hai toccato Di la verità Sputa fuori l'ospo Mamma Di la verità Io? Il tuo diario? No Ah ma scusami Hai un diario segreto? Che non mi hai mai detto? Cioè Chiara Senti un attimo Tu Nascondi qualcosa a me? Mamma Ma stai almeno scherziando Mamma Io l'avevo messo Nel posto L'avevo messo sotto E tu Io l'ho trovato Sopra Perché l'ho trovato Sopra Ora Non dire No No Niente Non so Ok Allora innanzitutto Questo È mio Prima di tutto E secondo Io devo ancora capire Per qual motivo Tu possiedi Un diario segreto E sì Ebbene sì Chiara Io te l'ho preso Perché Perché l'avevi messo Nello scatolone Che era quello Che arrivava ancora Dalla Liguria Te lo ricordi? Stavo continuando A sballare Gli ultimi scatoloni Mi mostri Cosa c'è dentro il diario? Se un diario è segreto Perché te lo dovrai Mostrare? Dai Dai Ti prego Una pagina sola Una Una Ma una pagina carta Cioè Quindi scusami un attimo E allora Me lo mostrerai E scusami un attimo Posso sapere il codice Del tuo lucchetto segreto? No E ti prego 28 5 17 7 Guarda Guarda Ti lascio il mio numero Di telefono qua sotto Chiamami A chi è che tu devi chiamare? A nessuno No scusami Alla mia amica Ma tu ti sei innamorata? No ma Alla mia amica Alla mia amica Tu ti sei innamorata? Vero E la mia amica Elena Tu ti sei innamorata? E non me lo dici? Io sai che cosa ti dico? No Sì Vado di via a tuo padre No Tanto a questi punti Tutti si innamorano Quindi Vabbè Amen Ci vediamo Che Per fortuna Non lo guarda Anzula Vabbè ragazzi A voi ve lo dico In occhiette Zero 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 Ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Chiara Guarda che io non gioco più con te Se continui a vincere Quindi per una volta No dai Sì Vediamo Te e la challenge dei cinque Stellina Ma dove ne vedi la stellina? Se voglio No vabbè E ora tocca a me No aspetta Uno L Vediamo cosa ci capita Titolo di un film Love is the hair Hai visto? L'avevo detto Ok ora Ma che imbroglona Ora tocca a me Due Due C Allora Gusto di pizza Due Con la lettera C Cocodrillo Ma che coccodrillo Cocomero Capricciosa Campagnola Chiara mi sta squelando il telefono Arrivo Diciamo Sì Vabbè Lo faccio da solo Uno R Sì Ok va bene Sì 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 No va bene Animario domestico Sì non dico nulla Va bene Ok Rosco Sì va bene Ho vinto la carta Sì va bene Che cosa ne ha? No niente Dai giochiamo Che è veloce Su dai Due M Leggo io No leggo io Mamma te l'hai già letto No Leggo io L'hai già letto Si trova in ospedale Barella Con la M Ma di nuovo Sì 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 Chiara io ho smesso di giocare Sì ok Sì 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 No no Non mi sembra il caso in questo momento No assolutamente no Perché? Mamma Sì no 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 Oh dimmi Ehi ma adesso non posso Ho bisogno un attimo di parlare al telefono No Sì no 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 Non va bene Sì Va bene Per me va benissimo Incontrarci a quell'ora Mamma Sì va bene Ok dai Ci vediamo Sì 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 va benissimo Ciao ciao Chiara sto parlando al telefono Non lo vedi? E tutta la mattina Che sto parlando al telefono Con chi parli? A parte che non penso Che una mamma Deba dare spiegazione Alla propria figlia Punto uno In realtà le devi dare Scusami perché le devo dare? Perché sono tua figlia magari Allora Sì Ok Sì sì ci sono Io penso che Arrivo Sì dammi tre un'ora Mi fusi questa cosa Non va bene Sì ci vediamo tra un'ora Solito posto Ok No va bene ho capito Non la porto Va bene va bene Ok Ciao Cosa? Dove devo andare? Mia mamma Chi non la porta? Devo andare subito A chiedere aiuto a Diego 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 Non puoi capire Che casino è successo Con la mamma E quindi Diego Io è da tutto il giorno Che la vedo Molto 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 Strana Quindi qual è il problema? In tutto il giorno Che mamma È al telefono Magari parla con papà No Diego Diego Praticamente Non è papà Io Ho sentito Sì Ci vediamo tra uno Ora Sì Non porto lei Sì Sta tranquilla Sì Tutto E mi puzza questa cosa Quindi Mi servi Chego Giriamo un pochettino Ok Io te lo giuro Oggi Degna questa Lui Pronto? Chego Guarda la mamma Cosa sta facendo? Sta cucinando Cosa sta facendo? No Diego Sta parlando Al telefono No Sta cucinando Sì Ma oltre a cucinare Cosa fa? Ah Davvero Sta parlando Al telefono Allora Io ti ho chiesto Gentilmente Dato che ci dobbiamo Vedere tra un'ora Ne parliamo tra un'ora In questo momento Io non posso parlare Sto cucinando A Chiara E Diego Perché poi mi devo assentare Sta parlando con la nonna No Diego Perché praticamente La mamma ha detto Sì Un'ora fa Ci vediamo Sì Non porto lei E praticamente La mamma Porta sempre Qualcuno farà? Io non ti porto il libro oggi Te lo scordi Tu vuoi il nostro libro? Vai a vedere il che lo compri? No No Io la notte dei sogni Non te lo porto Assolutamente no Cioè Va bene Sì Ma Ce l'hai anche nel link In descrizione Sì Ce l'hai anche lì sotto Io non te lo Allora Già Ehm Il canale No Allora Non mi fare parlare Perché in questo momento Non posso parlare Perché ho paura Che Chiara e Diego Mi sentano E se loro scoprano Una cosa del genere Siamo finiti Sì Cioè Sono finita Sì Va bene Ok Dai Ci vediamo dopo Ciao Ciao Vabbè Lo vado a chiedere Lo facciamo prima No Aspetta È 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 Oh Ditemi Che cosa c'è Mamma Cosa stai nascondendo Sì Dici tutto È No Di la verità Nulla Stavo pensando Bimbi Che cosa Potremmo mangiare Oggi a pranzo Tortellini Con prosciutto Viva bene Diego Hai visto C'è qualcosa Che non va E nella sua Agenda Rosa Mi contiamo Mamma cucina quello che vuoi No Aspetta Come cucina quello che vuoi Mamma mia Che giornata lunga E difficile Diego Ti pareva che non hai fatto Cade tutto Vai Bimbi Mi devo assentare Per un'oretta Ok Mi devo assentare Per circa un'oretta E ci vediamo dopo Sì Sì E cosa Cosa Mamma non è che ti porti Aspetta Mi hanno scritto Sì Chiara Io devo andare Non mi porto nulla Ne borsa Niente Solo il telefono E le chiavi di casa E mi posso fidare di voi Sì Papà Antonio è appena rientrato Da circa dieci minuti Giù di sotto Che si sta facendo la doccia State tranquilli Che c'è lui Mi raccomando Comportatevi bene Diego Hai visto La mamma Se l'è andata via E non si è portato Il diario dietro Sai quello che scriveva Rosso Paravo telefono e scriveva Sì Andiamo a vedere Andiamo Ok Chiara La casa è gigante Da capate Iniziamo a cercarlo Fammi pensare Io dirò E tu dirò Ok Andiamo Non c'è niente Eccolo Diego No Non è quella della mamma No 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 Vediamo un pochetto No Qua ci sono solo becchieri Vediamo qua No Ah no Questa è Una scatola Qua No Hai trovato una cosa Diego No Andiamo a vedere Il cucina Perché l'ultima volta L'ha lasciato lì Andiamo Diego Secondo te La mamma Dove lo potrebbe mettere Se io fossi al posto della mamma Lo metterei Nella frutta Nella frutta No No Il libro nella frutta Diego Guarda che non stiamo cercando un libro Stiamo cercando un diario Il diario della mamma La mamma c'ha un diario segreto Diego è da un'ora che lo stiamo cercando Ma se io fossi al posto della mamma L'avrei nascosto In alto Dove noi non riusciamo ad arrivarci Sopra la figo No Non c'è niente Lì Sicuramente nel forno Però È posto più basso Dove è posto È lì Sì Sì Bravo Andiamo Vieni E poi C'è Vieni Attento che non ti fai male Non cadere Eccolo L'ho preso Andiamo a leggere lo di là Andiamo E tanto che ti stavamo cercando Ma tu non l'hai trovato Io l'ho trovato Sì Vabbè Quello che è Diego Sono piccoli dettagli Ok Diego Ora Cerchiamo cosa sta Tramando alle nostre spalle La mamma Vediamo Vediamo questa linguetta Oh oh Chiara Mi dici cosa stai leggendo Dico Do 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 Dobbiamo chiamare la mamma Sai perché? Ma la mamma è andata via Sì ma la dobbiamo chiamare Sai perché? Da quanto Che lo sto leggendo Ho capito che La mamma vuole Regalare Il nostro canale A uno sconosciuto Dobbiamo chiamare la mamma No aspetta La mamma cosa sta facendo? Dai Diego Forza vieni Ok Diego Siediti qua Pensa Chiara Pensa La mamma vuole dare Il nostro canale A uno sconosciuto Diego Tra quanto arriva la mamma? Più o meno Deci minuti Ok Allora Non mi conviene Aspettarlo Però vorrò fare Un sacco di domande E mi dovrà rispondere Perché il canale Non è solo suo È anche mio Oh questa cosa Mi bussa Un po' troppo Bimbi Finalmente Sono arrivata a casa Cuccioli Ma in questa casa Non c'è nessuno oggi Vabbè Ah eccovi bimbi Sono arrivata Mi tolgo la giacca E sono subito da voi Perché quella faccia? Eh eh No Aspetta Chiara Non posso dire queste cose? Mamma Vieni subito qua Veloce? Ma no Aspetta un attimo Scusami Chiara Perché tu sei col mio diario Tra i mani? Mamma Vieni subito qua? Ti devi dare una spiegazione Ti devo dire una cosa Vieni? Eh no Sì ok Ho capito Ma scusami Ora no Mi devi spiegare Questo Ecco il nostro libro Amici Lo sapete Che è disponibile In tutte le librerie d'Italia In più Avete anche l'occasione Di prenderlo Su Amazon E riceverlo comodamente A casa vostra Cosa aspettate? Correte ad acquistarlo E fateci sapere Qual è la vostra Storia preferita E Volete sapere la mia? Eccola qua Lo stregone Willow Ma non vi anticipo ancora nulla La notte dei sogni In tutte le librerie d'Italia Di Mamma Giulia E figlia Chiara Questo Sì ok Lo so a memoria questa cosa Allora Perché hai voluto vendere Il nostro canale A un'altra persona? Io non ho venduto Il canale a un'altra persona Sì Ma lo volevi fare? Io non volevo fare niente E nessuno E cosa volevi fare? Sentiamo Non volevo fare La tua bellissima scusetta Guarda Allora Ah già Mi ha contattato una persona Sì Dicendomi Se per caso Noi volevamo dare Il nostro canale A questa persona E te cosa hai detto? Ma mi fai parlare? Cosa hai detto? Dimmi Cosa hai detto? Sì o no? Oh me lo dici? Mamma mia Oh Oh mi arrabbio Mi arrabbio Il mio canale Il mio canale L'ho dato A un'altra bambina No sto scherzando Ma tu pensi che io Possa mai dare Il nostro canale Ad un altro bambino? Sì Ma che c'è scritto qua Ma tu minimo Mi conosci? Sì E quindi? Io posso mai dare Posso mai dare Il nostro canale A qualcun altro? E questo Ora mi spiega Cosa vuol dire Questo È tutta una funzione Chiara Quello lì è la storia Per il nostro prossimo libro Perché l'hai letto? Perché l'hai letto? No Vabbè A parte che Era un segreto Ok Scusami E per quale motivo Tu hai preso il mio diario? Dicono i segreti Quindi Con chi è Il panato telefono? È vero Vabbè ragazzi Prima E non lo posso dire Davanti alle nostre Dimelo nell'orecchio Avete capito? Ragazzi Ci vediamo domani Con un prossimo video E anzi Sapete che cosa vi dico? Ma si leggono Le cose private degli altri Hai capito? Vabbè Ve la leggo questa Vi leggo Tanto ti porterò Sicuramente Diego No Non è vero Sì Tu perdi in un attimo Vabbè Carta Verbice Pietra Che cos'è sta cosa Diego? Non lo so Se è la della mamma O di papà Secondo me è della mamma Non è di papà No Mamma Va bene Cosa c'è scritto Chiara? C'è scritto Diario segreto Ma la mamma Ma la mamma Ha un diario segreto Secondo me Non lo so Somma è di papà Può darsi che non è della mamma Nemmeno di papà Nemmeno di pallino Perché pallino Non è una persona umana E allora E allora Di chi potrà essere Diego Ecco il nostro libro Amici Lo sapete Che è disponibile In tutte le librerie d'Italia In più Avete anche l'occasione Di prenderlo Su Amazon E riceverlo comodamente A casa vostra Cosa aspettate? Correte ad acquistarlo E fateci sapere Qual è la vostra Storia preferita E volete sapere la mia? Eccola qua Lo stregone Willo Ma non vi anticipo ancora nulla La notte dei sogni In tutte le librerie d'Italia Di mamma Giulia E figlia Chiara Non lo so Perché non lo abbiamo Diego Nonno no Metti caso Che è della mamma E non possiamo toccarlo E ci scopre E quindi Se non fosse una cosa Del lavoro Forse E poi ci guida Vabbè Vabbè dai E allora Naccontiamoci per l'aprillo Mmm Fammi pensare Aspetta Arrivo subito Stai lì Ma cosa è andato a fare? Chiara Ma perché? Perché lasciamo Le prendi In digitali Quindi Andiamo Quindi se fossi Un bravo detective Lo sapresti Vabbè Ti devo insegnare Un sacco di cose E lo faremo Un po' più avanti Ma ora andiamo Ad aprirlo Forse è questo Il blitz Nascondiglio Vabbè Apriamolo Aspetta Chiara Questo buttalo via Va bene Diego Ok Diego Sei pronto? Secondo me Con la mamma Un casino Quindi Facciamo veloce Così non si deve Beccarsi Vabbè Diego È il momento Quindi Scopriamo di chi Questo diario Un misterioso Quindi 3 2 1 Aiuto Allora Diego 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 Lo capisci Ho trovato una luce Cos'era? Cos'era? È un diario magico Ecco Perché c'era scritto Diario segreto Dico 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 Stai venendo Aiuto Aiuto Ma come siamo Diego Io non ci chiamo alla mamma Non so cosa fare Dico Dico Calma Dico Ma bisogna dirgliela alla mamma Chi o no? No Dobbiamo lanciare il teo Come l'abbiamo trovato Ok Breve Ottimo idea Quindi andiamo Prendiamo il teo Prendiamo il teo Prendiamo il teo Quindi andiamo Diego 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 Vabbè Diego 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 Ho visto la mamma Diego Ho visto la mamma Cosa c'era mamma? Non andavo volando Fuori a giocare Ciao Eeeh Eeeh No Come fuori a giocare? Bimbi Bimbi Venite immediatamente qua Bambini Ho visto che siete dentro Cos'è quella cosa? Io non la conosco Ma te lo giuro Guarda C'è scritto diario segreto E' vero Non so di chi è Il tuo? L'abbiamo aperto Ma è tuo? No Non è mio Allora Prima di tutto Non si toccano le cose Non è di proprietà nostra Perché l'avete aperto? E abbiamo trovato una cosa Spaventosa Come spaventosa? E di Papa Antonio? C'è come segreto A un'amica del cuore No mamma Allora cos'è di così spaventoso? Abbiamo trovato una luce Tipo come Nell'armadio Molto segreto Di casa nostra Te lo ricordo Ma quello cosa c'entra Chiara? E' un diario Guarda Ma no ti prego Non aprillo Non Aprillo Ti farò vedere Ti farò vedere Avete visto? E' un semplicissimo diario Ehi mamma Non si illumina E sembra completamente vuoto Sapete solo dire le bugie voi Aspetta Chiara Perché non si è illuminato? Illuminato cosa? E' un semplicissimo diario Che non sappiamo di chi è E soprattutto Per quale motivo Dite che si illumina Chiara Guarda Dato che noi siamo Dei piccoli investigatori Barra investigatrici E nell'accademia La prima regola Sì? Di essere un buon Investigatore Di investigatrici Qual è? Scoprirmi chi è Bravissimi Lo sapete chi è? Ehm Bapà Ballino Ballino Scusami E' un diario segreto Che lo apri E magicamente Tutte le pagine Sono bianche Mi sembra un po' strano E' un attimo Un attimo Un attimo Ma Mamma Poi Il proprietario Guarderà Delle impronte Vabbè Aspettate un attimo qua Ma Mamma Dove? Diego Dove sta ristando Secondo te? Ma forse Dei se puzza Sì Mamma mia Sto diare puzza La prima cosa da fare E' controllare Le telecamere E vedere Se c'è qualche Impostore in casa Ma io non sapevo il codice Eh me lo potevi chiedere Comunque guardiamo Mamma Mamma E' jolly Joy Ecco ragazzi Avete visto Questo diario Non toccarlo Non toccarlo Chiara Mamma Quindi Seconda regola Bisogna scoprire il Contenuto Bravissime Vedo che state migliorando Andiamo Ciao Mamma mamma Vedete mi ascolti E allora dai Poi Poi L'abbiamo L'abbiamo Ammussato L'abbiamo preso E poi Ci siamo venuti da te A dirlo No io Non l'abbiamo ammussato E poi non me l'avete detto L'ho scoperto io Eh sì perché Avevo paura Che ci vi davi Ah perché Avete provato Ad aprire un dialogo segreto Che non era vostro Sì Perché La terza regola Dell'accademia Qual è Pensavo che No Condividere con i propri capi Quindi mamma Giulia Non è il capo Sì Dell'accademia Sì Allora Ragazzi Contate Insieme a noi Tre Due Uno No ragazzi Per quale motivo Sta uscendo la luce Sta No ma per quale motivo Per quale motivo Mi avete messo In questo casino Ma perché Ma guarda Che a me non mi fa paura Sono abituata Perché ho fatto Tre Due Io Vado Si vedo la luce Si vedo la luce Io Ragazzi Allora Facendo una cosa Dato che questo viola Non è neanche nostro Ciao ciao Ecco Chiara ma me l'abbiamo fatto Ma ci sei o non ci sei Niente Tornata Cambi di idea Si sta vedendo La luce Del diario Vuol dire che si sta Arrabbiando E non trova il suo proprietario Allora Ragazzi Guardate Che luce Che arriva Da questo diario Ma 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 vuoi chiudere No Allora Facciamo una cosa Vedi Ogni volta che l'apriamo Si illumina sempre di più Ma guarda Voglio aprire lui Stavolta Voglio aprire lui Stavolta Si forse è meglio che Cominciamo a leggere Qualcosa Mamma mia ragazzi Ma questa luce Vi accetta anche a voi Si Ma è meglio che la leggiamo Mamma invece di pensare Alla luce Si Allora Leggo Siete pronti Si Guarda che Non si torna indietro Non si torna indietro nel tempo No Non si può Cioè quello che succede oggi Succederà oggi Allora Carissimo diario segreto Nonostante gli ultimi giorni Che ho passato da solo Ma A casa di mamma Giulia E figlia Chiara E figlio Diego E papà Antonio Ho scoperto Di essere molto Molto solo Ho bisogno Che qualcuno Mi accompagni Nella mia vita Perché non posso Intrufolarmi Nelle case degli altri Cerco disperatamente Un attimo Degli altri Quindi potrò andare anche A casa degli altri Si Quindi Cerco disperatamente Una persona Che mi accompagni Nella vita Allora Bimbi Avete scoperto Vero? Si Abbiamo scoperto Benissimo Quindi Per scoprire Che cosa è successo In questo diario Magico Bisogna guardare L'episodio di Do Mami Quindi Ciao 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 Se vuoi sapere Che cosa succede Che cosa è successo Che cosa succederà Iscrivete al canale Aspetta E lasciate un bel like Ciao Ciao E ne ricordiamolo sempre Così potrai capire Cosa fare da grande Ma adesso andiamo al mare Riposiamo la mente La villa con piscina La mia famiglia unita Un nuovo video arriva Manchi solamente tu Così non ho paura Del nuovo personaggio Però non so Chi è Chi è Chi è Pensate Sta arrivando Un video Insieme a noi